La stagione vera e propria dovrebbe iniziare a giugno, ma nonostante il freddo insolito di queste settimane e il vento che ha sferzato sul nostro golfo, è già iniziata la stagione della pesca alla lampara. Due dei tre peschereci della flotta di Sessere Levante in queste notte sono usciti in mare. Altri, come quello della famiglia Dentone, stanno preparando le imbarcazioni a questo tipo particolari di pesca che si effettua in notturna grazie all'utilizzo di luci potenti che insieme a strumenti tecnologici avanzati hanno la capacità di individuare banchi di pesce. Si va in ricerca di questi banchi di acciughe, sappiamo comunque i fondali, i posti, dopodiché una volta trovata una zona che apparentemente sembra buona, si fa una prova con una delle due barchette, delle due lampare. Quindi la gru aggancia e mette in acqua la barchetta con un uomo sopra e si attende un attimo, un quarto d'ora, mezz'ora per vedere se lì il pesce poi crede alla luce. Mediamente, in una nottata di lavoro, una o due calate della rete, non di più perché è raro che si cagli la rete tre volte perché poi la notte è relativamente corta. Se un tempo alla lampara si pescavano anche sugarelli e sgombri, oggi la regina del nostro mare è l'acciuga, presente in buona quantità ma con dimensioni sotto la media. Siamo un po' preoccupati sulla taglia del pesce, perché non cresce molto, quindi cosa succede? Succede che poi si deve andare a pesca perché si fa la stagione e si va a pesca come in questo momento di pesce piuttosto piccolo. Benché l'acciuga sia un pesce molto apprezzato dai consumatori, il mercato ha subito alcune variazioni rispetto al passato. È calata un po' la richiesta, ma più che altro è calato il modo di venderla e di consumarla, però ha una buona richiesta ancora, è molto apprezzata sia dai cittadini nostri della zona, cioè chi vive qui, sia dai turisti quando le nostre cittadine rivierasche si riempiono di gente.